siamo in località casermette a pochi metri dalla winchester nei dintorni pascoli e terreni coltivati un terreno pianeggiante facilmente lavorabile ripulito da sassi e ostacoli in centinaia di anni di lavoro e due colline recintate circondate da coltivazione di grano le colline sono due discariche del comune di ferentino ormai ricoperte di vegetazione una strada abbrecciata le delimita alla base della recinzione per la strada il percolato colore rosso ruggine maleodorante che si riversa nel vicino fossato è estate non ha piovuto eppure la canalizzazione ne appiena che cosa contiene questo liquido e dove confluere seguiamo nel percorso fino al ponte della cartiera in mezzo alle case la struttura in cemento armato avrebbe dovuto essere un pianile in mezzo alle case Grazie a tutti. Grazie a tutti.